Ritorniamo ora, seguendo queste premesse, alla frammassoneria per non staccarcene più e costruiamovi sopra alcune durevoli conseguenze. In vero la massoneria non può proporsi nessuno degli scopi a cui si dedica già notoriamente e apertamente qualcuna delle classi, degli indirizzi, e ordinamenti esistenti nella società umana. Essa non può voler attraversare la strada né procedere accanto ad un'altra associazione, poiché in tal caso essa sarebbe superflua in quanto vorrebbe fare quel che già accade senza di essa. Né potrebbe addurre a propria scusa il fatto che la pubblica istituzione, di cui volesse mettersi a fianco e adottare lo scopo, fosse manchevole e difettosa. È cosa di mera usurpazione il voler far meglio in via di occupazione secondaria ciò che altri non possono far meglio come loro occupazione principale. È una pazzia il pronunciare sentenza di condanna sopra istituzioni che forse si conoscono soltanto secondo il loro aspetto esteriore e non secondo le inevitabili difficoltà che esse trovano nell'oggetto della loro attività. Ciascuna di queste istituzioni, in seno allo Stato, porta in sé stessa il germe del miglioramento e tende alla perfezione. Per la massoneria può solo presentarsi in generale il problema se vi è un'istituzione per un certo scopo e non come essa vi soddisfa, poiché di ciò altri hanno a curarsi. Se essa volesse attivamente invadere un piano d'azione estraneo, non farebbe che diffondere il disordine e in pari tempo disturberebbe e devierebbe la sua attuazione. Anzi, sarebbe sommamente nociva, in quanto dovrebbe oltretutto far ciò in segreto, poiché pubblicamente non si conosce alcun singolo ramo dell'incivilimento umano che ella potrebbe intraprendere. L'uomo sabio e virtuoso non potrebbe sostenere una tale società qualora essa volesse occuparsi di questioni ecclesiastiche o politiche, filosofiche erudite o commerciali. Anzi, egli dovrebbe, una volta conosciuta la sua esistenza perturbatrice, rovesciarla e non occorrerebbe perciò altra maggior fatica che quella di farla conoscere, poiché è supremo interesse dell'intera società umana e di ciascun suo ramo, dello Stato, della Chiesa, del pubblico dotto e commerciante, annientare una tale associazione, tosto che essa venga conosciuta. Così resterebbe interamente e incondizionatamente escluso dalla massoneria ogni scopo di cui già si occupi una qualche classe sociale e sarebbe ugualmente pazzesco e ridicolo che i suoi membri si occupassero in segreto di fare buone scarpe o di riformare nel tutto o nelle parti lo Stato. Ogni massone che volesse negare ciò porrebbe in noncale non solo il suo buon volere e la sua intelligenza massonica ma il suo stesso buon senso. Ma un qualche scopo essa deve pure avere, altrimenti sarebbe un vano, vuoto scherzo e l'uomo sabio e virtuoso tanto poco potrebbe occuparsene quanto se essa si proponesse il suddetto scopo dannoso. Ma questo può essere soltanto uno scopo di tal genere che la maggiore società umana non abbia per esso alcuna speciale istituzione, uno scopo per cui essa, giusta la natura dello scopo stesso e quella della società non possa avere alcuna speciale istituzione. Poiché se la società potesse avere una tale istituzione, all'uomo sabio e virtuoso meglio converrebbe far accogliere questa istituzione in seno alla grande società e anzi farvela scaturire piuttosto che voler promuovere il suo fine mediante una separazione da questa società. La natura della grande società e dello scopo pertinente alla sua cerchia esigerebbe incondizionatamente che egli richiamasse l'attenzione dello Stato sopra questo ramo fino a qui dimenticato e quasi non si riesce a concepire come della sua attività. Allo Stato egli dovrebbe poi e di nuovo incondizionatamente lasciar piena libertà di pensare o no alle istituzioni corrispondenti. In nessun caso potrebbe egli segregarsi con una società per dedicarsi attivamente a questo scopo perché egli non è fatto assolutamente per questa forma di attività. Si domanda ora se può darsi un siffatto scopo razionale e buono per il quale la maggiore società non possa, giusta la sua natura, avere alcuna istituzione particolare e quale sia questo scopo. E l'unico scopo possibile della massoneria, considerata nel suo puro aspetto di società separata, sarebbe così trovato. Vediamo. Abbiamo riconosciuto essere un male che la cultura che si svolge dentro la maggiore società e a suo vantaggio vada sempre del pari congiunta con una certa unilateralità e incompiutezza, la quale si oppone all'evoluzione più alta possibile, ossia puramente umana. Ed impedisce all'uomo singolo, come all'intera umanità, di procedere felicemente verso la meta. C'è dato ora uno scopo che la maggior società umana non può affatto prendere di mira, in quanto esso le sta ben al di sopra e viene posto primieramente per l'esistenza della società stessa. Uno scopo che può avvenire conseguito solo uscendo dalla società e segregandosene. Lo scopo di annullare gli svantaggi della forma educativa nella maggiore società e assorbire la cultura unilaterale per tal particolare condizione nella comune cultura umana, nella cultura universale dell'uomo tutto quanto come uomo. Questo scopo è grande poiché ha per oggetto ciò che per l'uomo assume il massimo interesse. È razionale poiché esprime uno dei nostri più sacri doveri. È possibile in quanto è possibile tutto ciò che noi dobbiamo fare. Ed è invece quasi impossibile o almeno estremamente difficile a conseguirsi nella grande società perché la condizione, la forma di vita, le relazioni sociali che avvincono l'uomo sono sottili ma saldi legami e lo attraggono senza che egli se ne accorga in una cerchia invalicabile laddove egli dovrebbe procedere innanzi. Pertanto tale scopo è raggiungibile solo mediante una segregazione dalla società ma non mediante una segregazione perpetua perché ne sorgerebbe una nuova unilateralità e perché con ciò andrebbero perduti per la nuova società i vantaggi della cultura puramente umana in qualche modo acquisita e perché a questo soltanto si vuol mirare affondere insieme entrambe le forme educative e così innalzare la necessaria cultura di classe. Nemmeno mediante il ritiro nella solitudine poiché questa rafforza la nostra unilateralità più che non la sopprima e ricopre il nostro cuore di una corteccia egoistica. Dunque soltanto con l'aderire ad una società separata dalla società maggiore ma che non nuoce a nessuna delle nostre relazioni dentro a quella e che ha ricevuto in sorte l'ufficio di metterci di tempo in tempo davanti agli occhi e al cuore il fine dell'umanità per farne nostro scopo pensato e che lavora con mille spedienti a straniarci dalle nostre scostumatezze professionali e sociali ad elevare la nostra cultura a cultura puramente umana. Questo o nessun altro è lo scopo della società dei liberi muratori in quanto è certo che si occupano di essa uomini saggi e virtuosi. Il massone che nacque uomo ed è passato attraverso l'educazione della sua classe attraverso lo stato e le sue rimanenti relazioni sociali deve essere su questo terreno nuovamente educato da capo a fondo per essere uomo ma ciò può essere soltanto lo scopo di una società separata e quindi risponde per noi al problema che avevamo impostato. Che cos'è l'ordine dei liberi muratori in sé per sé? Ovvero che cosa può essere? Peraltro questo scopo è da una parte troppo ampio dall'altra troppo ristretto. Troppo ampio perché può essere conseguito per altre vie con la meditazione, i viaggi, l'affaccendarsi in mezzo agli uomini e nella vita sociale. Troppo ristretto perché nessuna società di qualsiasi specie può secondo la sua natura operare il suo perfetto raggiungimento. Quanto al primo punto sul quale soltanto in seguito verrà tutta la luce necessaria io rispondo per ora sol brevemente così. L'uomo può staccarsi dal cammino prefisso e prendere un atteggiamento che esorbiti dalla sua condizione. Può imparare a cancellare dalla sua personalità esteriore la pedanteria ed elevare il suo modo di pensare ad una maggiore universalità che non presta. Ma per tutto questo il suo intimo rimane imperturbato. Egli continua sulla sua vecchia strada pur dietro a siepi e muricciuoli eleganti. Mediante la mera riflessione egli può forse cancellare dentro di sé lo spirito di classe ma a patto di conferire al suo carattere individuale che ancora è assai diverso da quello della pura umanità tanta maggiore caparbietà. Ciò che deve essere qui operato in tutta serietà può avvenire solo in una società separata come noi l'abbiamo dedotta secondo il complesso della sua attività. La seconda obiezione è più importante ed io aggiungo alla mia precedente definizione dello scopo questa significativa limitazione. Una tale cultura è possibile mediante una società espressamente indirizzata a questo fine. Vi è infatti una forma di cultura generalmente umana in forza della quale ciascuno prende soltanto se stesso la sua coscienza e Dio per testimoni e giudici. è l'educazione alla libertà etica. Ciascuno che si creda onesto di fronte a se stesso, così scrivevo altrove alcuni anni fa, deve instancabilmente osservare se stesso e lavorare per nobilitarsi, il che deve esserli diventato in forza dell'esercizio affatto naturale. Ma questa occupazione non sembra, giusta la sua natura, esser capace di alcuna comunicazione. Andai da un pittore che io volevo vedere lavorare ed egli mi mostrò tutti i suoi dipinti, perfino quelli ancora incompiuti, ma per quanto lo pregassi egli non vi volle por mano sotto i miei occhi ed affermava che le opere del genio riescono solo nella solitudine. Questo mi trasse a considerare l'opera del genio morale dentro di noi e intuì la verità che anche in ciò bisognava essere soli. Trovai sempre più confermato che il vero sforzo per nobilitarsi è assai timido e vergognoso, anzi si ritrae in se stesso e non si può affatto comunicare. Già mai avevo posto in questione il mio miglioramento innanzi a me stesso, come potevo desiderare di metterlo tuttavia in discorso innanzi ad altri. Bastava che io agissi diversamente, che i miei amici, come io medesimo, conoscessero la crescita della pianta solo dai suoi frutti. Pertanto non si deve mai portare in luce il proprio miglioramento, né abbassarsi mai ad una mera confessione dei propri difetti, ma estirparli. Dobbiamo provarne nausea. Allora non staremo più a rigirarli per un verso e per l'altro, per esprimerli con esatte ed eleganti determinazioni. Qualora si volesse, per un malinteso sentimento del dovere, obbligare a questo, per un certo spirito eroico nell'amicizia o a favore di un fine sociale, si verrebbe soltanto a prendere confidenza con essi, a renderseli cari, perlomeno a non paventare più l'esistenza di difetti che si sono così clamorosamente condannati, perlomeno ad infiacchirsi nella confessione, in quanto la si mettesse in conto di miglioramento. E così è. Formare la propria educazione alla libertà etica, per una data condizione sociale, parlarne con altri, lasciarsi trascinare da loro al rendiconto e confessarsi a loro o farsi confessare, scompiglia l'animo da capo a fondo, poiché ciò trae a deporre il santo pudore, a diventare il più peccaminoso tipo di ipocrita, l'ipocrita verso se stesso. Ed una società che si ingeriva in questo condusse effettivamente al più tetro ascetismo monacale. Pertanto la massoneria non ha niente a che fare con questa forma di educazione alla pura umanità. Come nessuna società che non sia composta di fanatici e che abbia compreso l'oraziano, insani sapiens nomen ferat, equus iniqui, ultra quam sitis est virtutem sipetat ipsa. Che significa? Il saggio si attira a nome di pazzo e Aristide diventa ingiusto, piuttosto che egli pratichi la stessa virtù più del giusto, ovvero quando egli ricerca la virtù stessa affannosamente per false vie. Tutto ciò che accade secondo una qualsiasi distinzione fra gli uomini, sia che miri alla capacità tecnica o a conoscenze o alla virtù, è profano di fronte alla massoneria. Ma di fronte a ciò che riguarda la libertà etica, la massoneria stessa è profana e irreligiosa, poiché quella è il santo dei santi, in paragone del quale il santo stesso è volgare. Questo solido concetto, interamente determinato e chiaro in sé, dovremmo elevarlo assolutamente a canone della massoneria e a principio di una critica di ogni cosa massonica, qualora avessimo da impiantare una critica siffatta. Altra cosa certamente è, per accennare in breve anche a questo, l'educazione dello spirito. Altra, l'aspirazione alla sensibilità morale, la formazione dei costumi esteriori e dell'esteriore osservanza alla legge. Questa appartiene senza dubbio alla massoneria. Ora tu avrai presente all'animo l'immagine della massoneria, come essa è in sé e per sé stessa, o può e deve essere unicamente. Ma aggiungerò ancora alcuni tratti a questa immagine. Qui si raccolgono in vero liberamente uomini di tutte le classi e portano ad un sol cumulo la cultura che ciascuno poté acquistare secondo la propria individualità, nella sua condizione. Ciascuno porta e dà quello che possiede. La testa pensante, concetti chiari e precisi, l'uomo d'azione, capacità e agilità nell'arte del vivere, il religioso la sua religiosità, l'artista il suo entusiasmo artistico. Ma nessuno dà nella stessa maniera. Ciascuno lascia del pari da parte l'elemento singolo e specifico e ciò che egli ha realizzato nel suo intimo come risultato. Si sforza di dare il suo contributo in modo che possa pervenire a ciascun membro della società. E l'intera società si affatica a sostenere questo suo conato e a conferire appunto così utilità generale e universalità alla sua cultura fin qui unilaterale. In tal colleganza ciascuno riceve nella stessa misura di quello che dà. Appunto per via di questo che egli dà, gli viene dato e precisamente la capacità di poter dare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.